Lo staff tecnico di 2810 di New York City Travel Agency, preparato sul viaggio individuale, sul viaggio di gruppo e soprattutto sul viaggio di nozze, ha la peculiarità di trasmettere esperienza e passione per il mondo. La nostra agenzia è preparata al meglio per trasmettervi il fascino potente della metropoli per eccellenza, che tanto mutevole vi impressionerà sempre come fosse la prima volta. New York City Travel Agency vi farà sognare avventure nel mondo, lieta di appassionarvi, viaggiando.